buongiorno amici benvenuti in cucina con maio facciamo due spaghettini un po di pasta con l'astice andiamo bene vediamo un po abbiamo fatto rosolare le cipolle del peperoni e le elastici che adesso rimuoveremo ok allora prendiamo un'altra pentola adesso fiamma alta olio extraviaggine d'oliva facciamo riscaldare ci mettiamo un tritto di aglio e peperoncino è così ok piano piano qui abbiamo la nostra pasta per le pizze gli diamo una rigirata e l'ho preparata ieri l'abbiamo fatta di evitare 24 ore bella elastica ecco lavoriamo un pochino così io la rigido un pochino ecco qua abbiamo messo dell'acqua a bollire con tanto sale ecco qua facciamo colorare l'aglio un pochettino senza bruciare adesso tra un attimino leviamo le teste questo io non le mangio qua hanno dato il sapore al nostro fritto ecco qua ho messo due cipolle un peperone qua adesso lo travasiamo della nostra latina facciamo colorare l'aglio ancora un attimino giusto un minutino ecco qua così aggiungiamo la nostra costa nostro asti c'è scusa ecco qua facciamo cuocere poco meglio continuiamo a lavorare la nostra pasta ciao ragazzi, oggi stiamo facendo la nostra loxta spaghetti, pasta, o quale gotta lavorare la porta, on and off, on and off on and off ok, la mia porta è sempre bella ecco là ecco là ecco là I have to work for a while here, at least 10 minutes. I use different techniques, I do it for a bit and then I do it again and again and again. There we go. Okay, we have tanks, now I start to pan upside down my lobster. Oh, it's cooking beautifully. It won't take too long guys, it doesn't take too long. Now I chop my tomatoes, give a wash. There we go. Thank you. You can see these tomatoes here. There we go, we do like this. Let's see, we're done. Take your cloth, give a quick clean to the water always. Here is. Okay. Okay. Let's cut this. Okay. ok guys boiling water here we add spaghetti now high flame to my lobster let's get some pasta all right we're gonna go for a penne today half kilo and let's cook all right look gorgeous guys top class I need a bit of black pepper let's see if I can find something here there we go I got spread black pepper all around plate here there we go I've not finished we need some parsley now let's chop some parsley here here we go here we go we're gonna put some basil leaves all around check your pasta obviously stir it here we go ok ragazzi un po' di basilico adesso trittiamo il prezzemolo qua una lavatina there we go there we go here we go here we go here we go I'm gonna add some water for my boiling pasta just a little bit here we go happy sunday everyone I need to move a bit of camera I think I need to move a bit of camera I think there we go so you see Mau as well hello you see him playing Musetti last night against Djokovic it was a late night match Djokovic won again waiting for the big match today with Sina next day keep steering so beautiful guys keep steering it make sure it cooks about size E ragazzi, una bella, una bella pasta Ok, pasta is cooking nicely here Add another touch of water, just a little bit Chop finely the pasta, there we go Very simple cooking Wow, beautiful, beautiful this Let's check the pasta, still hard, still hard We need time Ok We need to make sure it's finally chopped Ok, guys Buona domenica a tutti Quitate bene il prezzemolo Per carità Così, un pochino adesso E un pochino dopo Respegliamo Si sta asciugando la salsetta Bene Bene There we go Easy peasy E un pochino E un pochino Yes E un pochino E un pochino Musica di Sardegna, ragazzi. Grandi, canores. Controlliamo la pasta, ancora un po' dura. Non, 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 non. Daniele, come hai imparato a cantare tu? Non, 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 non. Non, 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 non. Chi fa che su graffaggio... Ne parliamo un po' di acqua di cottura qui, ragazzi. Un altro goccino qua. via la pasta ascoliamo bene un altro po' di olio di oliva e non si è in grado di oliva e non si è in un tasso Eccoci qua ragazzi. Eccoci qua ragazzi. Eccoci qua ragazzi, ci siamo? Eccoci qua ragazzi. 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 Facciamo un assaggino. 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 Mamma mia. Mamma mia. Andiamo un po' come andiamo. Buonissimo. 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 Ti ho mangia piano 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 piano. Buonissimo. 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 Ci vado a tutti. Grazie a tutti